PEGI 16 Avevo tutto quello che un uomo può desiderare. Potere, denaro e un popolo ai miei piedi. Ho costruito un impero dal nulla. Fino al momento in cui il mondo ha cospirato contro di me. E' arrivato il momento di vendicarmi. Tropico 4, eletto miglior gioco di strategia dell'anno.